Ciao, buongiorno a tutti, mi fa piacere molto che siete interessati per ascoltare questo video, quindi vorrei presentarti un progetto interessante con la storia della sua creazione sviluppo che abbia già 45 anni. Questo progetto può fornirci tra le viaggi l'opportunità di fare la storia attraverso un progetto ambientale globale e allo stesso tempo creare capitale reale per la tua vita spensierata. UST Filosofia, creazione di questo trasporto, che il trasporto dovrebbe risolvere la maggior parte dei problemi e non dovrebbe essere la loro fonte della loro generazione, ci offre tecnologia di trasporto sospeso per il trasporto di passeggeri a merci fuori terra. I mezzi di UST ci prosteranno infatti su uno speciale cavalcabi a fune, rotaia fuori terra e ottimizzando l'aerodinamica, aumentando la velocità, garantendo una sicurezza senza precedenti e uso razionale del territorio e delle risorse, minimizzando l'imparato dei trasporti sull'ambiente. Tuttavia il costo di costruzione e funzionamento è molto inferiore rispetto alle soluzioni di trasporto disponibili per oggi. Ecco, e allora, io sono Caterina Dato Sciogli, un creatore dello sviluppo regionale nel campo di implementazione della tecnologia ad alta velocità e ho esperienze di lavoro di strutture statali, 15 anni di esperienza nella comunicazione e nelle relazioni in ambito medico e ho anche 18 anni di gestione di imprese private ad esperienza impreditoriale nel settore delle vendite e dei servizi e sono una specialista certificato di lingua italiana a livello A2 e specialista certificato di mediatore europeo interculturale. E allora, il progetto di cui parleremo oggi è proprietà del signor Anato Iuniecki. E allora, Anato Iuniecki è un scienziato, un inventore di oltre 200 articoli, un completo di 200 articoli. Lui è un scienziatore, inventore, di oltre 200 articoli scientifici, 20 monocrapi e più di 150 dimensioni nel campo delle industrie, delle costruzioni e dei trasporti di energia meccanica, elettronica e chimica. Lui è un sviluppatore soprattutto di numeri progetti di infrastrutture di trasporto basati su sistemi di trasporto spaziale e geospaziale e nonché tecnologia di stringa. Responsabile di due progetti in 1998 e 2002, membro della federazione cosmonautica, proteggista generale di USD e fondatore del gruppo di ISL. E allora, la proprietà intellettuale del suo progetto è stimato già in 400 miliardi di dollari ed è dopo 45 anni dal 2014 è diventata una grande azienda che è un progetto che oggi ha le migliori offerte al mercato. Ecco, USD è una cosa intelligente, i materiali ecologicamente puliti, automatizzati e dotati di energia solare. Linea di stringa, USD, completa un flusso di lavoro continuo e complesso di include determinazione dei costi e prezzi, progettazione, costruzione e funzionamento delle tecnologie di trasporto e infrastrutturali, compresa la formazione specialistica e il servizio post vendita. Allora, ad oggi i progetti plurianali dell'ingegnere e inventore Natori Ineschi rappresentano un sistema di trasporto completamente ad alta tecnologia, costruendo da materiale rottabile, automatizzato e un binario unico, oltre a strutture, infrastrutture e sistemi di alimentazione verdi. Allora, questo è un progetto che è soddisfatto tutte le aspettive del signor Natori Ineschi, che ha avuto l'idea di costruire città lineari dove servirà il trasporto scalini a stringa e i nostri bisogni quotidiani della natura servano preservati. Questo tutto si fa per la nostra salute e sopravvivenza e dove già sono realizzati questi progetti, allora si vede chiaramente quanto è pulita l'atmosfera. E allora noi stiamo partecipando in questo progetto perché è innovativo, è da alta velocità, è sicuro e facilmente integrabile e soprattutto ecologico. E anche la costruzione di linea stringa richiede meno denaro rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto. Ecco, con la sua bellezza e comodità sarebbe ancora meglio per sviluppare e migliorare i servizi del turismo. E anche la costruzione della struttura di linea stringa richiede meno denaro rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto. E allora, quando costruiamo linea stringa, noi consumiamo 20-25 e meno fiumi, in cui è molto ecologico. WISD implementa un flosso di lavoro continuo e complesso che include costi e prezzi, progettazione, costruzione e gestione delle tecnologie di trasporto e infrastruttura, complessa formazione specialistica e servizio post vendita. Abbiamo discutito questo pure, il trasporto WISD unico è una scelta infrastrutturale per la città e le sue periferie e gli impianti tecnologici basato sul trasporto sviluppato. WISD sono costruiti secondo il proprio della costruzione modulare che consente la selezione del materiale rotabile ottimale con costi minimi. Implementando questo trasporto, noi possiamo migliorare molti servizi quotidiani. E allora, quando costruisci linea stringa, allora richiede meno denaro rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto. Si vede, quindi, allora, quando devi costruire linea stringa, consumi 20-25 e meno. Questo già è un grande risparmio, perché noi non abbiamo bisogno di raddrizzare il paesaggio, versare acqua e rompere le rocce. Per costruire questa strada sono necessari, sono soliti supporti con un binario di funne per viaggiare su Sky Transport e funnire servizi di consegna con un trasporto più veloce. Esistono anche tre tipi di passacorde, ridici, semiridici ed elastici, e ognuno dei quali ha il proprio tipo di binario. E come sappiamo, quando un'auto accelera ad alta velocità, deve fare i conti con il flusso d'aria in arrivo e si chiama resistenza all'aerodinamica e il nostro transporte è mila volte più facile da gestire e grazie allo scafo affilato è in grado di raggiungere questa velocità. E implementando questo progetto possiamo migliorare molte aree di servizio, muoverci molto più velocemente. Partiamo con noi in re dei dividenti e piacciamo in Italia o in qualsiasi paese sognato più veloce e in comodità. Allora, pensatevi che in pratica utilizzando questo trasporto possiamo portare le persone alle cure di emergenza più rapidamente e ottenere interventi chirurgici urgenti o in tempo con un rapido trasferimento alla clinica necessaria. e per gli interessati posso dire che qui è possibile usufruire anche ricevere e entrare aggiuntive dal programma di partnership e di cui parleremo in un incontro specializzato per gli interessati. quindi ogni partner della società UST è in una posizione redditizia. il vantaggio e il fascino della nostra azienda sta nel fatto che una forte unione di persone con obiettivi valori comuni e rappresentanti di 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto per attenere un reale benessere finanziario che è già diventato un processo irreversibile e di cui parlano i progetti già pianificati perdonatemi e di cui parlano i progetti già realizzati pianificati e firmati è un po' cambiato il tempo e si vede anche e dove è realizzato già questo progetto come abbiamo detto già si vede quanto è pulita l'atmosfera e cambia tutto per me e anche per i molti partner è diventata ancora più credibile che l'Italia sia tra i 200 paesi partner e orgogliosamente vi posso offrire questo progetto allora dove è già realizzato questo progetto sicuro che possiamo dire quanto è pulita l'atmosfera e paragonare la nostra situazione di oggi sulle strade e allora la società Skyward Community che era già il suo nome passato che dal 2022 fine di quest'anno l'anno scorso è presentato con un nome cambiato Unesky String Technology è stata registrata in Inglaterra in isole Vergini come società europea nel 2014 pertanto i diritti del single co-partner sono scritti e tutelati dalla normativa europea inoltre l'ordine di partecipazione invitato inviato dal registro pubblico inglese all'indirizzo indicato dopo la registrazione della società le sue fasi di sviluppo sono state sottivise in 15 fasi e oggi siamo già spostati alla quindicesima fase ed è dopo completamento questa quindicesima fase siamo allora siamo già spostando sul mercato mondiale e ci siamo avvicinando alla maturazione dei dividendi e c'è un stabilimento anche un centro di innovazione Sharjah e Minsk dove lavorano 3000 ingegneri istruttori esperti che gestiscono il dettaglio del trasporto di futuro con la massima precisione e qui voglio dirvi che ogni dettaglio ha 100 anni di garanzia ha le cita lineari è una prova di questo progetto già è realizzato in Belarussia e in Sharjah e si vedono i risultati molto piacevoli che possiamo allora trovare allora l'ecotecnopark è stato realizzato operativo in Belarussia nella città Marina Corca e negli Emirati Arabi Uniti in particolare nella città di Sharjah nel centro di innovazione e attorno all'università americana dove già è possibile visitarli e allora questo documento di partecipazione arriva all'indirizzo indicato e possiamo trovare e sentire che possiediamo in realtà e dopo realizzare le nostre azioni che per oggi già sono equivalenti con i dollari e allora allora questo è un unico allora è un unico progetto che già ha creato i condizioni per il nostro futuro per avere una vita normalizzata in tutto l'atmosfera più pulita e sistemata ambiente per la nostra sopravvivenza allora all'università americana dell'emirati arabi c'è una linea di prova del nostro trasporto che opera per 15 km intorno all'università americana e questa distanza comprende 21 stazioni e ogni visitatore può sperimentare il conforto di questo trasporto e viaggiare con l'auto di stringa del futuro e ora ti dico da dove possiamo prendere i nostri benefici però vi posso non dire allora la comodità sistema di gestione del traffico un livello di gestione più elevato un sistema dato per l'attività di in stradamento e questo prodotto che ha creato il suo sviluppatore Andoyunetsky si adatta per le città lineari però utilizzando e implementando per oggi diciamo migliora molti servizi necessari per noi per aiutare le persone per i nostri servizi per i nostri servizi del curiere raggiungere molti luoghi sulla nostra terra così facilmente velocemente senza rumore e non influenzare l'ecosistema e allora cosa stavo dicendo è ora ti dico da dove prendiamo esattamente i nostri benefici allora il 32% della quota del valore delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con gli investimenti pubblici si effettua la posizione di azioni e noi diventare comproprietari di tecnologie innovative e i pacchetti azionari partono da 50 dollari e arrivano fino a 158 mila dollari a seconda dell'interesse degli azionisti è un rappresentante di qualsiasi classe sociale può investire è possibile usufruire anche di rate interne a tasso zero su pacchetto azionario e non perdere il tempo per ottenere maggiore informazione fornisci subito il tuo invitato il link di registrazione o fissa o incontro per darti risposte più specifiche alla direzione che ti interessa soprattutto puoi registrarsi che non richiede da te nessun denaro troverai maggiori informazioni sulla propria piattaforma e anche vedrai tutte le offerte che ti offre l'azienda e allora queste offerte a volte ci sono così che per la tua famiglia bambini studenti e per te e per tutti allora familiari puoi fare una cosa migliore e risparmiare per il loro futuro molti azioni che sono equivalenti già con i dollari e personalmente ti posso dire che personalmente per me è stata una grande gioia prima volta quando io ho conosciuto questo progetto e allora rendermi conto di aver comprato 120.000 dollari per da soli 1.000 dollari cosa che non avrei potuto fare nella vita reale ma cosa dovrei fare per guadagnare questa cifra o in quanti anni potrei risparmiare così tanto e per me che l'azienda UST è diventata il senso e il supporto della mia vita che mi ha dato tante possibilità molte possibilità allora diciamo di svilupparmi andare avanti non fermarsi mai non solo che accumulare quantità di miei azioni godire anche tutti i risultati i progressi su di me e allora un po' dico per te quindi tecnologie sono sviluppate abbastanza è sicuro che avrai una domanda ma perché non usiamo un'auto ibrida c'è la risposta anche su di questo ma io ti dico che quando carichi l'auto ibrida in pratica devi collecarla a una centrale elettrica che funziona di nuovo o a carbone o in un'altra materia e che o prima o quindi crea sempre crea danni alla natura e non siamo sicuri neanche il 90% e allora per i propri interessi e per i propri obiettivi di umanità abbiamo danneggiato la natura e i paesaggi stiamo votando foreste prosciugando fiumi e bacini nitrici distruggendo montagne e sciogliere e quindi la natura risponde con disastri naturali e succede sempre così eppure questo è un processo irreversibile se per oggi non saremo svegliati e non cercheremo a guardare e salvaguardare il nostro pianeta blu e noi stiamo partecipando a questo progetto perché vogliamo salvaguardare il destino della nostra pianeta ricordate che i costi operativi sono 20-25 volte inferiori al trasporto su strada già esistente e la produzione di energia al minimo perché genera energia più che sufficiente e non dipende dalla centrale e qui vogliamo dire che è semplicemente integrabile quindi non costa tanto e anche possiamo implementare in poco tempo e in sicuro cambiare la nostra vita e migliorare ogni servizio utilizzando per oggi allora l'USD implementa un flusso di lavoro continuo e complesso che include costi e prezzi progettazione costruzione e gestione della tecnologia di trasporto e infrastruttura complessa la formazione specialistica e servizio post vendita negli anni 70 esistevano questi problemi di inquinamento e sicurezza e nel 1978 il signor Natori Uneschi scienziato e il mentore proteggista dei navvolanti presento il suo primo articolo scientifico dopo 5 anni di ricerca sull'atmosfera e mostro anche paragonando con la bellezza e comodità della linea Sky e il trasporto che esisteva prima e il trasporto che esiste per oggi creano e creavano allora danni per la natura e il nostro linea distringa e quel trasporto salverà destino tra pianeta salverà la sua bellezza della natura e evita tutti i veicoli già esistenti e non crea e non causa incidenti e non inquina la natura e quindi non butta nessun fumo del casoio allora così semplicemente per dar capire a tutti allora 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 lui ha mostrato risultati della sua ricerca e che in cinque anni dopo cinque anni di ricerca atmosfera era stata molto inquinata e continuare così per decenni avrebbe esposto la popolazione a sconosciute malattie purtroppo questa situazione già esiste quindi sappiamo che le strade sono sovrappolate e d'auto e con la loro emissione possono causare l'inquinamento e molto malattie e molti incidenti quindi purtroppo ci sono anche i paesi che dovranno mettere in atto leggi sulla sicurezza che la causa allora in molti casi molto spiacevoli e allora e anche la presenza di pandemia Covid-19 ci ha mostrato la necessità di un trasporto ecologico e circolazione di questi problemi da decenni ha causato allora molte cose che a volte diventevano insuperabili strada sovrappolata mancanza di sicurezza e dispendio di energia colosale e fino alla fine la natura così inquinata sono allora malattie così tossici e carcinogeni questo è il motivo per cui Sky Transport è il trasporto più necessario più richiesto nella storia dell'esistenza umana la caratteristica tecnologica del trasporto provoca condizioni ambientali in invasione scusate è il momento delle acque aperte soteranee naturale di uccelli ai mari e le rotte migratorie sono volante molte ettari e terreni non sono più ad uso agricolo e possiamo utilizzare per implementazione creare comodità per viaggiare dappertutto e portare alimentari necessari in ogni angolo della nostra terra e è arrivato il tempo di dire allora i nostri profitti cose sono quando decidiamo essere un partecipatore della nostra azienda allora prima di una prima offerta c'è che avremo i rati di evidenti possiamo guadagnare dal programma di partner possiamo avere o dare l'ereditarietà possiamo allora avremo disposizione sulla restituzione del denaro anche diventiamo proprietari di tecnologie innovative partecipiamo a un progetto ambientale ampio e globale salvare per la nostra pianeta blu e in cui passiamo alla storia come fino ad troppo possiamo creare capitale per una vita spensierata e realmente legalmente con la nostra volontà cambiare la nostra vita in maggior parte abbiamo la possibilità di viaggiare per raggiungere luoghi molto belli interessati per noi attestiamo di formazioni speciali più impegnative e altamente retribuite e il valore nominale del nostro acquisto è direttamente proporzionale al numero delle nostre azioni e questo è anche ancora non è tutto quindi lavorando insieme con il tuo gruppo è ancora più interessante con le tecnologie in via di sviluppo svilupparsi se stesso viaggiare per trovare i centri innovazioni dappertutto nel mondo dove già sta realizzando il progetto firmato e ti posso dire che impiantando e iniziando questo progetto in Italia per le condizioni più farevoli in direzione del turismo e utilizzare prodotti e le tecnologie ecologiche è un risparmio che per noi anche per la nostra bensima pianeta vedremo come cambierà tutto intorno di noi la cosa più importante per te che ci sia un progetto reale che puoi visitare toccare sentire la sua velocità e condita per te stesso non ha bisogno paragonare a nessun'altra azienda così tranquillamente in calmo puoi guardare come cambia tua vita e delle altre persone che godiscono con il suo benessere e il bel salute e migliorerà la loro qualità della vita e la salute è una grande felicità penso questo è l'unico progetto ecologico globale che ci offre molte opportunità interessanti e come vi ho detto già che per me personalmente per i molti partner è diventato ancora più credibile che Italia sia tra i 200 paesi partner è una grande gioia e orgogliosamente vi posso offrire sempre questo progetto registratevi trovate maggiori informazioni sulla vostra pagina principale sulla vostra piattaforma e dopo se avrete le domande potete contattarci da noi e avere tutte le informazioni necessarie per te e allora vi posso dire che l'azienda tiene conto dei nostri diritti secondo la legislazione europea e godiamo di tutti i diritti del comproprietario questo è il grande conforto per noi è un produttore e creatore il signor Nato Junetz che presenta una relazione annuale del lavoro svolto questo non è unico progetto quindi abbiamo già un altro progetto Gomus che era già già sta realizzando abbiamo cominciato già investimenti tutte tutte le informazioni si trovate sulla nostra piattaforma allora la nostra azienda ha una disposizione del denaro anche se decidi improvvisamente di lasciare azienda ti offre di aggiungere più 4% a determinate condizioni restituire i tuoi soldi come mutuotario in questo caso se tuttavia qualcuno lasciasse dovesse lasciare azienda con questa richiesta ma però precedente questo precedente non è stato finora rilevato quindi allora è un processo in via di sviluppo e lo sviluppo tecnologico non si ferma mai quindi decenni prima non c'era pure un telefonino così sistemato che ha dato tutte le funzionalità che abbiamo per oggi e la nostra mentalità è accelerata e possiamo capire in un minuto molte cose e in un secondo possiamo reagire avere molte cose e non serve allora inserirci e studiare tanto le cose e allora lo stesso Aneto Iuniecki ha già 74 anni ed è sicuro che al 1000% che tutto questo si rialgerà dappertutto nel mondo nel corso della sua vita e lui vi posso dire che non ha rifiutato a realizzare questo progetto anche quando la sua vita era in pericolo quindi lui è un scienziatore e stava guardando un quadro del mondo dove andavamo e che serviva per salvare la nostra pianeta c'è anche un sito uneschi.engineer dove è possibile vedere un elenco completo di una serie di permessi e certificati che riflette 45 anni di duro lavoro del signor Antonio Iuniecki a quale ha dedicato la maggior parte della sua vita e del suo lavoro e allo stesso tempo ecco quel sito dove è possibile trovare tutti i certificati ed è la sua fase del suo sviluppo in questa fase allora l'azienda ha offerto programmi di formazione certificati attualmente le specialità più richieste e altamente pagate e in cui il mio team è attivamente coinvolto puoi immaginare che attualmente prima del 2014 le persone non stavano investendo letteralmente in nulla c'era solo un'idea e il grande desinteressato lavoro del creatore di questo progetto però comunque tutto stava andando solo avanti e ad oggi abbiamo già molti progetti firmati abbiamo dove già sono realizzati questi progetti e personalmente la mia storia è ricca di successi e progressi e con gli insegnamenti in azienda ho raggiunto lo status di master perché è un'azienda in via di sviluppo come già ha parlato e il nostro sviluppo è necessario insieme alle tecnologie del futuro allora quello che è importante per te il trasporto esiste davvero e si è adatta a tutte le condizioni climatiche e il suo corpo è resistente alle radiazioni e converte l'energia solare luce del giorno in elettricità e può letteralmente servirci senza sosta e muoversi ad alta velocità e i termini di trasporto progressi molto progressivo quindi i termini di trasporto passeggeri può trasportare un numero molto maggiore e in 24 ore rispetto ad altri trasporti esistenti e i termini di inquinamento siamo a zero sostanze nocive non esistono quindi non usa nessun gasolio e quindi nessun danno per la natura pure non esiste i termini di incidenti è il più sicuro perché evita fisicamente tutti i veicoli già esistenti ricordiamo che ad oggi abbiamo tre tipi di veicoli che necessitano di consumo trasporto maritimo terrestre e aereo e tutti questi tre tipi ancora inquinano l'ecosistema e tutto deve spostarsi sulla su pannelli solari e già UST fa parte di un gruppo di aziende proprietarie delle proprie aziende che nel complementazione delle tecnologie innovative di UST includono una gamma completa in attività tra cui un'azienda di iniezione completamente avanzata la propria impressa con una vista esperienza nella produzione dei veicoli e mano per mano e tempo per tempo allora tutti i trasporti saranno su pannelli solari e miglioreranno la nostra vita quotidiana e salveranno la nostra qualità la nostra salute e la nostra vita Skyway è un trasporto unico che salverà la vita animali uccelli persone centinaia e migliaia di ettari di paesaggio e tutti i tipi della vita si sul nostro pianeta salverà e permetterà loro a ciascuno e non vi posso non dire allora i nostri profitti alla fine quindi se decidi essere un allora un investore della nostra azienda e decidi aver cambiato la maggior parte la tua vita tu avrai i profitti con i ratei i dividenti guadagni dal programma partner avrai o potrai avrai possibilità di dare o avere l'editarietà disposizione sulla restituzione del denaro diventi anche comproprietario delle tecnologie innovative e avrai la possibilità di viaggiare dappertutto partecipa a un progetto ambientale ambito globale per salvare il nostro pianeta blu passi alla storia come fin troppo e crei capitali per una vita spensierata attestato di formazione in specialità impegnative altamente retribuite è quello che è molto importante per te che il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni e questo conforto non ti offre nessun'altra azienda neanche non cerchiamo mai essere paragonato da nessun'altra azienda quindi abbiamo un progetto unico che non esisteva mai nella storia di esistenza umana ciò che per oggi è disponibile per tutta l'umanità e ciò che è importante per te alla fine c'è ancora la possibilità di unirti a questo progetto ambientale più globale unico e senza precedenti e cambiare la tua vita in meglio e allora penso che essere un creatore e sviluppatore del futuro sia l'evento più grande nella vita di una persona e progetti realizzati già dicono tutto il lavoro svolto del signor Anatole Iunezchi è visibile e per noi sta creando un mondo nuovo e a volte si chiamano un soprannome come un nuovo engineer della nostra pianeta e la nostra partecipazione del allora UST sì è una cosa reale della nostra vita già è disponibile per qualsiasi classe sociale possiamo unirti in questo progetto senza dubbi e conoscere ancora meglio tutte le offerte che ci offre e tutte le opportunità ecco mi fa piacere che stavate ascoltando queste informazioni penso esserci molto utile per voi quindi sulla nostra pagina si trovano tutte le informazioni e potete capire anche stessi molti maggiori informazioni e cosa abbiamo organizzato con questo progetto quindi con la nostra volontà vogliamo implementare questi progetti ecologici in Italia e spero che tocca anche il vostro cuore tutti i giovani e persone che volete bene il vostro paese avrete una grandissima voglia a migliorare tutto intorno di voi e allora era società Unesky String Technology UST con le sue offerte opportunità e sono stato attratto dalla qualifica dell'investore leader speaker curatore regionale in Italia mediatore europeo interculturale è una mamma immigrata che è immigrata da 4 anni e tutto questo lavoro che sto facendo allora è fatto dal posto mio lavoro online e in questo tempo sono stati investiti oltre di 35.000 dollari in azienda però l'azienda mi ha aperto molte possibilità di andare avanti e vi consiglio sinceramente passare questa strada insieme con noi migliorare non solo la nostra vita in questo paese questo paese dove abitiamo vogliamo molto bene salvaguardare insieme il destino del nostro pianeta essere utili per tutte le forme della vita questa bellissima pianeta e allora vi saluto e auguro una bellissima giornata e per il futuro vi auguro svegliarci in un mondo nuovo più sistemato più pulito e con la qualità della nostra salute e vita molto alto ciao e allora ci vediamo sui altri webinar e se lasciate i vostri commenti mi fa piacere capire la vostra idea come possiamo fare tutto questo e se qualcuno sarà interessata può dare anche le domande ciao ciao vi saluto grazie